Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILIP. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze ci sono poi code a tratti per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze e Scandicci e rallentamenti per lavori tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola, code a tratti tra Prato Ovest e Sesto. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!